Buongiorno a Simone Parodi, un giovane professionista di pallavolo di Sanremo che oggi ha accettato il nostro invito. Chi non lo conoscesse, Simone è una stella dello sport della provincia d'Imperia che dopo aver mosso i primi passi nel volley e armaditaggia ha intrapreso una carriera di successo che l'ha portata a giocare in Serie A, in nazionale e talmente gioca in Polonia. Buongiorno Simone, grazie di essere qui. L'emergenza sanitaria da Covid-19 ha cambiato anche il mondo sportivo. Tu eri in Polonia quando l'emergenza è iniziata, stavi giocando, com'è successo? La situazione lì come era percepita? Hai finito di giocare la partita, il campionato? Raccontaci un po' come in Polonia era la situazione percepita. Guarda, innanzitutto buongiorno a tutti. In Polonia il campionato è finito due settimane giorni fa, ci hanno dato l'ok per tornare a casa e là comunque la situazione era migliore rispetto a qua perché non c'erano tutti quei casi e comunque nonostante questo hanno deciso di stoppare il campionato e qua in Italia hanno deciso di stopparlo due giorni fa. Quindi sono stati un po' più previdenti rispetto a qua perché noi abbiamo finito, come detto prima, abbiamo finito di giocare circa 25 giorni fa, abbiamo fatto l'ultima partita di Champions League e poi hanno deciso di sospendere tutto. Non sospendere ma proprio annullare il campionato perché non c'è stato nessun trofeo, nessun vincitore. Noi eravamo primi, un po' mi dispiace perché eravamo primi in classifica, però adesso l'importante ovviamente alla salute di tutti. Certo. Quindi tu eri in Polonia e poi sei riuscito a tornare in Italia. È stato difficile poter ritornare alla provincia di Imperia, ti hanno fatto dei controlli e sei stato sottoposto a un tampone per poter tornare? Guarda, il mio viaggio è stato un po' difficoltoso, nel senso che sono riuscito a partire proprio al limite perché dalla Polonia partiva solamente un volo a settimana da Varsavia e quindi sono dovuto andare a Francoforte a prendere un volo e sono dovuto atterrare a Milano, sono dovuto andare in pullman da dove abitavo io, a Francoforte, sono 12 ore, però alla fine è stato lungo, controlli li ho avuti a Milano ovviamente quando sono atterrato con le telecamere, diciamo con le temperature, però è stato lungo ma alla fine è andato bene. Quindi alla fine sei riuscito a tornare nella nostra provincia e anche per te è iniziata la quarantena forzata che stiamo facendo tutti. Come stai passando il tempo? Cosa fai? Riesci a lanarti in casa? Riesci a fare qualche esercizio per mantenerti comunque in forma? No, no, assolutamente sì. Diciamo che è dura perché comunque ho fatto 15 giorni di quarantena a casa da solo, però sono riuscito ad allenarmi, comunque a fare i miei esercizi, penso come la maggior parte degli atleti rimasti tra i goletti chiusi in casa. Sono riuscito ad allenarmi con gli attrezzi che avevo a corpo libero e anche divertendomi con i miei amici magari in videochiamata ci allenavamo insieme e quindi comunque cerchiamo di fare del nostro meglio di tenendoci in forma così da casa. Certo. Diciamo che la situazione è difficile per tutti, soprattutto per gli sportivi che ora non sanno come allenarsi per mantenersi in forma. Tu cosa ti manca di più della pallavolo? Cosa ti manca fare ora che non puoi più fare? Ma guarda, adesso era da settembre che eravamo sempre in palestra, quindi diciamo che due settimane di stop ci stanno, non è che non mi manca più di tanto adesso, però è la nostra vita, quindi penso che tra qualche settimana ovviamente con tutti gli sportivi ci mancherà perché facciamo quello da sempre ed è normale che le comportano anche, però due settimane di pausa adesso potranno stare, ma ovviamente fino a settembre dato che è saltato tutto, sia le Olimpiadi che ovviamente il campionato che doveva finire a maggio, sarà tutto, questo sicuramente. Certo, adesso è una situazione particolare perché per la prima volta nella storia della pallavolo in Italia si è fermato tutto e la stagione si è chiusa senza una vera fine e ogni serie categoria non gioca più, infatti come hai detto tu anche le competizioni europee ormai sono ferme, tu come hai vissuto questa decisione? Secondo te questa cosa influenzerà anche il modo di fare pallavolo in futuro quando l'emergenza finirà? Si giocherà solamente a porte chiuse, si prenderanno altri provvedimenti o tutto tornerà più o meno come era prima secondo te? Una tua opinione? Secondo me è stata una decisione lunga, però giustissima, perché comunque come hanno fatto in Pologna che hanno preso una decisione prima rispetto ad altri campionati, era la decisione corretta da prendere, perché comunque come ho detto prima la salute è prima di tutto e non si può giocare, rischiare la vita dei ragazzi, degli atleti, del pubblico, della gente che ci viene a vedere e quindi penso sia stata la decisione più corretta. Nel calcio forse si sta un po' aspettando troppo, però penso che noi abbiamo preso la decisione giusta e penso che dopo sia una questione di tempo, ovviamente magari il primo mese, i primi due o tre mesi sarà un po' diverso, le persone saranno un pochino più in difficoltà magari a vendere delle partite, ma poi penso e spero ovviamente come tutti gli atleti, tutti noi, torneranno alla normalità. Certo, un'altra problematica sono state appunto le Olimpiadi che dovevo iniziare, poi anche lì ci sono state problematiche, sono state rimandate per questa situazione di emergenza, tu che puntavi alle Olimpiadi, come vedi il tuo futuro ora? Pensi che riuscirai comunque in un futuro? Diciamo che la mia età non mi aiuta dal punto di vista anagrafico, quindi forse era l'ultima possibilità, perché comunque in Polonia stavo giocando bene e se saranno l'anno prossimo mi vuole dire che dovrò fare ancora di più, dovrò tenermi ancora più in forma, stare ancora più attento a tante cose e ovviamente ci proverò, poi vedremo cosa succederà, però penso che la decisione di posticiparle sia stata giustissima. Quali sono gli altri tuoi obiettivi ora per te personali, diciamo, nell'ambito dello sport? Ti sei posto degli altri obiettivi oltre all'Olimpiadi? Ma l'obiettivo è sempre quello, dato che io ho avuto un pochino di problemi fisici durante la mia carriera, soprattutto ultimamente, è quello di cercare di stare il meglio possibile dal punto di vista fisico e poi poter giocare sempre in buone squadre finché riuscirò e poi, come hai detto tu, l'anno prossimo vedere se riesco a tornare in nazionale. Ora sei qui in Italia e ti hanno già detto più o meno quando potrei tornare in Polonia o aspetti proprio la fine dell'emergenza sanitaria per poter tornare a giocare? No, in Polonia il campionato non è sospeso, il campionato è finito, quindi il campionato là è finito e in teoria in Polonia non devo tornare. Quando io sono venuto in Italia già sapevo che era finito tutto, non eravamo in attesa di una risposta da parte del club o della federazione. Quando ci hanno fatto andare a casa, ci hanno fatto venire a casa, comunque il campionato l'ho già finito, quindi in teoria abbiamo finito già tutto e sto aspettando di vedere quale squadra sarà per me l'anno prossimo, quale campionato, quale nazione, quale sarà una sorpresa. Va bene, allora ti auguriamo in bocca al lupo per la tua carriera, per ogni cosa, grazie di essere stato con noi e ringraziamo tutti coloro che ci hanno seguito sia su riviera24.it che è su riviera24sport, sulla pagina Facebook e Twitter e Instagram, continuate a seguirci anche su www.rivera24.it